Sono Maurizio Boscheri, artista della natura, onorato di potermi presentare al pubblico delle Sempiterne e ringrazio Simona Fontana per avermi dato l'occasione. Pingo animali in estinzione, il mio messaggio è uno della natura e la mia speranza è che la gente guardando le mie opere possa comprendere ciò che stiamo perdendo. Per chi volesse approfondire la mia conoscenza ed il perché delle mie opere, segnalo la mia biografia, le parole non servono, scritto dalla mia amica Cristina Sperandio e l'intero ricavato della vendita dei libri andrà all'associazione Onlus Amici di Casamiri che sostiene una casa famiglia. Casamiri è una casa famiglia e ospita delle bambine in Sri Lanka. Lo splendore dello scenario naturale dei luoghi in cui sono vissuto, che ho inteso rappresentare, si evidenzia in questa mia opera, Alba Alpina, Olio su tela, con giovani cerve, falene, dell'arco alpino e flora locale. Il dipinto è anche arricchito da pietre semipreziose quali topazio, rubini, zaffiri e ametiste. Stiamo vivendo un momento complicato e questo palcoscenico prezioso desidera essere anche il mio respicio per il prossimo santo Natale. Dalla Ghetti di Egna, che amo tantissimo, ho viaggiato in tutto il mondo e la mia vita è ben descritta nel libro autobiografico Le parole non servono di Cristina Sperandio.